La leva tecnologica è certo necessaria ma non sufficiente. Se ci si intende imbarcare sulla nave della digitalizzazione di produzione e logistica, della manutenzione, di attrezzature e impianti, allora c'è da intervenire prima di tutto sulla leva organizzativa. È il piano di manovra che guida le attività di Stein, che da 25 anni realizza prodotti standard e soluzioni software per il Manufacturing Execution System. Lo scoglio non è tecnologico, è più uno scoglio culturale di mentalità organizzativo. Sappiamo bene che cambiare organizzazione implica una certa resistenza, tutti noi abbiamo una certa resistenza al cambiamento. Oggi la tecnologia disponibile sul mercato fornisce veramente una grande quantità di possibilità per poter digitalizzare i nostri processi, ma perché questo sia efficace non basta riempire l'azienda, i reparti produttivi di PC o di tablet o di telefoni. Bisogna prima di tutto fare uno sforzo organizzativo e credere che avere informazioni certe in tempo reale vuol dire guadagnare più soldi, vuol dire dare un servizio migliore al nostro cliente. Ma tutto parte da un'azione organizzativa evidentemente, perché se i dati li raccolgo, raccolgo grandi e big data e poi non li guardo, capite bene che evidentemente non stiamo sfruttando le potenzialità che la tecnologia ci può mettere a disposizione. Non è sempre semplice e scontato andare oltre alla raccolta dei dati immagazzinati grazie alla tecnologia relativi ai processi. Ci sono imprese che sono alla ricerca di figure professionali con competenze matematiche e statistiche, altre che si affidano a ingegneri. Secondo Stein però potrebbe non essere sufficiente. Serve un po' un cambio di paradigma, un cambio di modello in cui le persone dispongano conoscono a fondo la tecnologia, ma questa non è una cosa complicata da fare, e quindi siano però predisposte a dei cambi organizzativi e culturali affinché utilizzino il meglio della tecnologia per riorganizzare i propri processi. Quindi sempre di più le proprie persone che utilizzano strumenti nuovi, in processi nuovi. Stein ha più che raddoppiato i propri clienti acquisiti nel corso dell'ultimo anno, spiega l'amministratore delegato. Una forte accelerazione è stata impressa dal piano calenda, non solo per la propria componente di incentivazione fiscale. Ha avuto il grande pregio di creare una grande sensibilizzazione. Evidentemente un messaggio che viene da fonti governative è molto più autorevole di un messaggio che possa venire da partner commerciali che da secoli propongono queste tecnologie, ma certe volte si fermano per scogli culturali e organizzativi all'interno dell'azienda. Nel cantiere della digitalizzazione, anche all'interno della filiera dell'acciaio nazionale, ci sono lavori in corso. In alcune società i settori sono in fase più avanzata, in altri devono ancora cominciare. Abbiamo aziende estremamente informatizzate da tanti anni e altre che magari sono ancora molto affezionate alla carta. E un po' credo che sia la fotografia non solo del reparto delle trafilerie, ma abbastanza trasversale un po' in tutti i settori industriali. Ma sempre di più chi è vicino oggi, soprattutto a mercati molto competitivi come l'automotive, è sicuramente anche obbligato a dare sempre più servizi al cliente e quindi ha bisogno di avere l'informazione giusta al momento giusto quando gli serve, certa in tempo reale e quindi è quasi obbligato ad affrontare i processi di digitalizzazione e di cambio di organizzazione. Altri che magari sono legati a un settore più di commodity devono, magari per emulazione o capire che vantaggi possono essere ottenuti in settori analoghi o in competitor analoghi per avere un po' una spinta a proseguire questo miglioramento. Proprio per diffondere la conoscenza della digitalizzazione dei processi produttivi, Stein sostiene Siderweb nella seconda tappa di bilanci d'acciaio. Lo studio, che ha fotografato la situazione economico-finanziaria della filiera siderurgica attraverso l'analisi dei bilanci 2016 di quasi 4.000 imprese, sarà declinato in chiave di settore il prossimo 16 novembre a Lecco. Il convegno tra filerie, strutture ed evoluzione del settore fornirà una panoramica sul comparto della trafila, centrale nella filiera siderurgica italiana. Il senso è quello di portare l'esperienza della digitalizzazione che noi tutti i giorni facciamo dei processi produttivi a conoscenza degli operatori del settore delle trafile. Oggi vince sul mercato chi personalizza sempre di più il servizio verso il cliente, oltre che ovviamente il prodotto, ma questo già lo facciamo. Personalizzare il prodotto e il servizio sicuramente genera maggior fidelizzazione al cliente e grandi margini di competitività sul mercato. Per farlo però non possiamo più affidarci alle tecnologie e ai modelli organizzativi attuali basati molto sull'esperienza del singolo piuttosto che su tanta carta. Dobbiamo valutare e sfruttare al massimo l'esperienza delle persone, ma dandogli tutti gli strumenti digitali affinché il loro tempo non sia perso nel far girare la carta o interpretare quello che sulla carta viene scritto in produzione, ma usino la loro esperienza guardando le informazioni digitali, le tante informazioni digitali che possono essere raccolte dal campo affinché i processi risultino sempre più efficienti e continuamente in controllo e producano poi anche delle azioni di miglioramento continuo.